Buongiorno e bentornati. In questo breve video vi presentiamo tre libri tecnici dell'editore Sandit Libri, libri di qualità e poi c'è anche il nostro volantino, il nostro nuovo volantino dedicato ai nostri prodotti. Guida la stampa 3D, lo oscilloscopio nel tuo laboratorio, strumenti per smartphone e tablet. Manuali ricchi e precisi, tecnici. Saluti da Elettronica Didattica.